Un saluto da Siro Perin, ci troviamo a Cadei Carresi, stupendo gioiello incastonato in pieno centro storico a Treviso in occasione di una affascinante mostra dal titolo Art Ambassador organizzata dalla Venn International Venice Art Gallery e tra le varie opere esposte troviamo questo bellissimo obelisco colorato, mi permetto di definirlo così, poi chiederemo all'artista di spiegarci un po' in profondità che cosa è questo sbelisco, tra l'altro è una bricola veneziana quindi subito si attacca alla simbologia legata a Venezia, si attacca alla simbologia della provenienza di questa essenza legnosa perché chiaramente provenivano da alcune zone del Veneto e perciò c'è già un rimando se si va in questa zona, più o meno ci si muove intorno al Cansiglio, si vede subito la presenza, anzi il passaggio dei veneziani e quindi una bricola che è stata erosa dal tempo, consunta, deflagrata dall'Andi Rivieni, dello sbattere delle onde e che è stata presa dall'artista e rielaborata, questa interpretazione perciò è prettamente simbolica e Vanni Cenedese adesso ci racconterà come è arrivato a questa nuova interpretazione di questa bricola, c'è chiaramente la tematica del recupero, dell'oggetto consunto ma c'è dell'altro e quindi che cosa si nasconde questa opera? Beh innanzitutto piacere, sono Vanni Cenedese da Treviso, appunto recupero le bricole veneziane che sono i pali piantati nella laguna di Venezia, sposo il discorso del reciclo e riuso perché credo che ogni legno che ha già avuto una storia possa averne un'altra e questa è un po' la mia filosofia e quindi prendo questi pezzi di legno che sono degradati dal tempo e dalla Teredine che è un mollusco marino e gli ridò una vita, cerco di rivisitarli in chiave artistica, ho usato questi colori, sono tutti colori all'acqua, crilzi all'acqua e stendendo la bricola pulendola bene da tutto lo sporco che si forma sott'acqua e ho cominciato a dare una base e poi giorno per giorno colare il colore che sceglievo al mattino quando mi alzavo, vedevo un colore e lo dedicavo e quindi con queste colature filanti diciamo ogni giorno le colavo su quest'opera e quindi il colore ha una valenza emozionale? sì esatto, ha una valenza emozionale che io vorrei dedicare alle persone che vogliono portarsi a casa una mia opera che ogni giorno vedano un colore diverso e escano di casa pensando appunto a questo colore e che escano con il sorriso, il sorriso che ho io ogni volta che la guardo e ogni volta che colavo questi colori e la felicità che vedo ogni volta che la guardo. quindi un'opera taumaturgica potremmo definirla, una vecchia bricola oramai consulta dal mare, dagli esenti atmosferici, dal tempo che viene riutilizzata, si trasforma in opera d'arte con l'intenzionalità di dare emozioni positive, dare sensazioni positive, sensazioni ed emozioni di cui l'uomo soprattutto quello contemporaneo, basta dare un'occhiata nei telegiornali, ha bisogno e ce ne regala serenamente, quindi anche lo spettatore che osserverà questa opera non potrà che rimanerne colpito positivamente e andare via con questa dimensione positiva, magari inaugurando una bella giornata. Grazie per la visione!